Formazione, ricerca, trasferimento tecnologico, l'università, quella vera, oltre ad essere, deve anche esserci, fisicamente, in presenza. A ribadirlo, nel corso della presentazione del terzo forum del Gran Sasso, in programma al Campus di Colleparco, nel weekend, è il rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola, che in conferenza stampa si toglie qualche macigno dalla scarpa, in difesa dell'Ateneo Teramano, assediato da quelle università telematiche, mai nominate ma solo evocate, che dall'esterno minacciano il piccolo Ateneo cittadino e il sistema universitario pubblico che garantisce, promettendo didattica, formazione e titoli a distanza. È accaduto anche in passato, con tentativi romani con sponde in città, oppure dal capoluogo adriatico, ma il fascino dell'Università telematica nel Teramano si è rifatto minaccioso durante il lockdown, che ha sbarrato le porte degli Atenei pubblici. Il riferimento mancante nell'intervento del rettore stavolta è le università telematiche, sorte a Pescara da ex docenti della D'Annunzio, che aprono sedi distaccate sulla costa teramana, o ai nuovi Atenei sorti a Giulianova, Tortoreto o nelle vicine Marche. Atenei definiti validi, rispettabili, anche se l'Università Vera è un'altra cosa, chiarisce Stizito Mastrocola, che sulla riapertura in presenza dell'Ateneo Teramano e l'avvio delle elezioni, sa di giocarsi una partita difficilissima con l'emergenza Covid ancora in atto.